Grazie Presidente, colleghi. Sì, noi abbiamo appoggiato la fusione e la proposta di fusione dei comuni di Abetone e Cutigliano, come ci siamo dimostrati anche favorevoli all'altro accorpamento a due comuni relativo a Piteglio e San Marcello Pistoiesse. Poi nel secondo giorno di seduta della Commissione abbiamo anche ascoltato un comitato che sul territorio della montagna pistoiese ha fatto circa 22 assemblee territoriali, ha fatto una raccolta firme e quindi noi vorremmo, cioè per una fusione a quattro. Ora, secondo noi potrebbe essere fattibile all'interno della dicitura della scheda referendaria aggiungere, con il minor costo possibile, poter dare voce anche a chi può essere interessato a un accorpamento a quattro, aggiungere la voce a quattro. Per quel che riguarda poi la dicitura sarà compito del personale addetto, però mettere le due opzioni al momento di voto di entrambe gli eventuali accorpamenti. Grazie.